il giorno della madonna guardate quanta gente c'è ho fatto sette ore stamattina adesso vado al museo ne faccio altre quattro e mezzo che poi arriverò anche in ritardo prendo una sgridato dalla direttrice e poi oggi mi tocca scarpinare più del solito dentro il museo perché c'è la gente che si incolla le pareti si versa la vernice rossa mamma mia poi stasera quando finisco le sette devo andare a fare notte su a un ospedale morirò questa volta merda grazie grazie